Seconda edizione della Fiera Internazionale dei Tartufi d'Abruzzo al via con il taglio del nastro al Parco del Castello. Una tre giorni con al centro una delle eccellenze culinari del territorio nella manifestazione organizzata dalla regione Abruzzo con l'assessorata all'agricoltura di Emanuele Imprudente tramite il proprio braccio operativo LARAP. 60 aziende con i loro stand e convegni, masterclass con grandi chef, incontri business to business tra produttori regionali e buyers dei mercati esteri, influencer, gare e fornelli con studenti degli alberghieri, eventi e spettacoli, obiettivo affermarne in Italia e nel mondo il brand Tartufo d'Abruzzo già al top di qualità e quantità di raccolta soprattutto per il bianco e il nero pregiato conquistare in definitiva i mercati esteri che nelle fiere già fatte hanno mostrato già grande interesse. È un progetto che vede la valorizzazione del nostro territorio, è un progetto che vede la valorizzazione dei nostri tartufi che negli anni hanno fatto ricche altre regioni. Oggi stiamo lavorando, abbiamo lavorato in questi anni in maniera importante per promuovere i nostri prodotti, le nostre tipicità, la nostra qualità a livello nazionale e internazionale facendo conoscere la nostra regione che è una regione unica nel suo genere, ricca di biodiversità e ricca di valori ambientali che sono unici. Non soltanto è un momento per tanti espositori di promuovere un prodotto straordinario come il tartufo e tutta la trasformazione che chiaramente segue questo prodotto ma diventa una vetrina internazionale per i mercati europei, appunto i mercati internazionali anche per la stessa città dell'Aquila. Chef importanti come William Zonfa o Alessandro Miceli, tanti studenti coinvolti e a portare visibilità all'evento anche influencer come Francesca Gamba Corta e Ruben Bondi. Attenzione anche ai cani abbandonati con un'asta di beneficenza e poi una bella iniziativa Tartufai per un giorno, cerca simulata con cani addestrati organizzato dalla Scuola Maiella con gli studenti dell'agrario Serpieri. La prima edizione è partita in via sperimentale, embrionale, improvvisata nel giro di un mese quindi abbiamo comunque raccolto tanti buyer, però oggi veramente è l'edizione lancio quella in cui abbiamo lavorato insomma tanto tempo e quindi penso che sarà un'edizione che lascerà il segno e diciamo l'inizio di un lungo percorso.